Aprile è un mese con la R e come sapete i mesi con la R nascondono delle insidie quindi vi consiglio di non avere fretta nel piantare guardate sempre le previsioni del tempo, è meglio posticipare rispetto ad anticipare gli ortaggi devono avere la possibilità di svilupparsi in modo continuo e regolare se durante il mese possono nascere degli intoppi come per esempio possono essere delle nottate fredde gli ortaggi rallenteranno la loro crescita questo rallentamento li causa delle debolezze le debolezze attirano dei patogeni e spesso capita che ci ritroviamo nell'orto degli ortaggi che crescono a stento e degli ortaggi malati anche per quanto riguarda il terreno mi raccomando prendetelo al momento giusto non piantate mai quando è troppo bagnato